Continua il divertimento sulla sabbia ad Eboli, a scendere in campo ieri sera nell'ambito di Eboli in beach, amministratori e giornalisti. A vincere al termine di un match combattuto gli amministratori che hanno battuto gli avversari per 6 reti a 4. Abbiamo finito le fasi eliminatorie del torneo di beach volley, abbiamo avuto la media di circa 34 partite al giorno con 25 squadre tra junior e amatoriali. Abbiamo iniziato il beach soccer, 30 squadre, soltanto per i piccoli e altri 10 di adulti. La nuova beach stadium è sempre piena, il village anche, quindi scommessa vinta, siamo riusciti ad approvarci del centro della piazza di Eboli, scommessa super vinta. Sicuramente adesso da qui al giorno 15 avremo ancora altri numeri da superare e quindi altro record da infrangere. Ma ci saranno delle grandi novità, arriveranno dei nazionali di beach volley ma anche nel calcio, però non sveliamo ancora tutto. No Antonio, allora diciamo che domani si continua con il torneo di beach soccer e poi ci sarà il beach tennis, venerdì e sabato torneo pro, domenica tutte le finali. Aspettiamo degli ospiti importanti che poi vi faremo sapere in questi giorni, pesca la manzia, non lo diciamo ancora. Ancora Cariello, Cariello cerca di passare e tira e golla! Gran golla di Massimo Cariello! Sindaco Cariello dopo tanto tempo ha un'altra sfida tra giornalisti e contropolitici. È una sfida, è una partita tra amici, ci divertiamo, è una bella serata ormai, quest'anno il beach ha sbancato come a Miamudino. Dobbiamo dire, sono la fan, mamma mia, mi sono guaiato, guarda. E si parea, come dice Massimo, è bello, è divertimento, la piazza piena, c'è gente, c'è coinvolgimento. E noi ci divertiamo, almeno in questi momenti ci rilassiamo anche. E noi ci divertiamo, almeno in questi momenti ci rilassiamo anche.